Nel mondo Roma si è sparsa una voce clamorosa che tanto voce poi alla fine non è perché ne parla un giornalista che sicuramente è ben informato sulle vicende di calcio mercato parlo di Fabio Caressa che su Youtube è proprio intervistato se non sbaglio su Youtube da uno Youtuber che in questo momento non so se si è Penguin, non so se è un canale o un Youtuber singolo ma poco importa. Sapete che in queste ore pare che Dybala abbia più o meno trovato un accordo di massima con l'Inter ma la trattativa è stata più complicata, più laboriosa del previsto però pare che si siano messi d'accordo. È un passaggio che mi sembra un grande sgarbo nei confronti dei tifosi della Juventus perché Dybala andrebbe a giocare una squadra che è praticamente rivale ai massimi livelli della Juventus quindi ma naturalmente forse io sono ancora o mai pronto per la RSA e quindi ragiono con criteri ormai superati questi vanno dove conviene andare non gliene frega una marcia ma continuo a pensare che tutto questo non sia molto bello. Comunque carezza ha affermato che secondo quelle che sono le sue informazioni la Roma sta preparando una bomba, sta preparando il terreno per arrivare a un top 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 player perché secondo ragionamento è Fagaressa i Fritkin hanno un modo di lavorare molto professionale, molto chiaro, hanno preso Murigno spendendo anche molto per internazionalizzare il marchio, internazionalizzare il marchio, ci sono riusciti perfettamente perché in questo momento in tutti i posti del mondo sanno che Giuseppe Murigno è l'allenatore della Roma e identificano la Roma con la figura vincente di Giuseppe Murigno, allenatore con 26 titoli in bacheca che solleva la Conference League come allenatore della Roma. La scelta ricaduta sull'allenatore portoghese si è dimostrata una scelta perfetta al di là della vittoria della Conference. È un allenatore che è entrato nel cuore dei tifosi, che ha proprio saldato ulteriormente il rapporto tra tifoseria e squadra. È un uomo che come fai a non amarlo? C'è un modo di vivere le situazioni, le partite che veramente non si può non amare Murigno. Cioè o lo ami come suo tifoso o lo odi come avversario, non ci sono vie di mezzo, è uno che non passa mai proprio inosservato, non ha proprio mezze misure mai. Secondo il ragionamento che fa caressa, che prova un ragionamento che non è solo teorico ma si basa anche su informazioni che loro comunque hanno, non ha fatto il nome preciso ma ha fatto capire di chi si potrebbe trattare perché è qualcosa che già io qualche volta avevo anche detto la Roma potrebbe sondare e anzi ha già sondato la pista che porta al portoghese Cristiano Ronaldo. Non è una bestemmia, ormai si può sognare, sapete che i rapporti che Murigno ha già allenato Ronaldo e sono tutti e due portoghesi, c'è stima, Ronaldo ha sempre manifestato simpatia per la piazza di Roma, io me lo ricordo molto bene tanti anni fa quando la Roma in Champions affrontò il Manchester United al Teatro dei Sogni a Manchester e Cristiano Ronaldo dialogava a distanza con i tifosi della Roma, si mandavano messaggi d'amore, lo ricordo molto bene all'epoca ancora di Spalletti. Ragazzi i freaking a Roma non sono mica venuti a pettinare le bambole, questi i soldi ne hanno messi anche troppi secondo me, la società purtroppo è una società indebitata come sono tutte le società indebitate, ci sono anche regole di fair play finanziario che devono essere rispettate, che hanno creato delle problematiche inizialmente, ma è chiaro che c'è un progetto di sviluppo del marchio, pensate a quello che è stato per esempio avere uno sponsor come la Digital Beats che ha portato un sacco di soldi sulla maglia, questo processo che deve portare gradualmente poi all'obiettivo finale che è la costruzione di uno stadio di proprietà che è qualcosa di imprescindibile per poter competere ai massimi livelli. Forse qualcuno sarà un po' sorpreso di quello che io sto dicendo, ma allora forse non avete capito bene qual è la situazione, ora spiego un po', questi giorni, vi ripeto, non ho peli sulla lingua, questi giorni ho le idee molto chiare. Il progetto dei Fritkin non è un progetto alla, vediamo un po', tiro all'incrocio dei pali e spero di prendere l'incrocio dei pali, spero di non tirare fuori. Il progetto dei Fritkin è, io prima che tiro, che ho già segnato all'incrocio dei pali, sto già pensando a dopo, a come segnerò il gol successivo, loro sono un gruppo solido e vogliono fare della Roma un top club europeo. Noi vogliamo competere per i massimi livelli, vogliamo entrare in Champions League, vogliamo tornare a lottare per lo scudetto, vogliamo primeggiare in Europa, vogliamo essere competitivi anche in Champions, vogliamo che questo marchio sia valorizzato, marchio, nome, come lo volete chiamare, in tutte le sue componenti, in tutte le sue potenzialità e per fare questo purtroppo bisogna spendere un sacco di soldi e bisogna puntare in alto, perché solo puntando in alto si crea un circolo virtuoso, che abbiamo visto molto bene quando abbiamo preso Giuseppe Murigno, che porta, che cosa porta? Porta al 10 giugno 30.000 abbonamenti, ma vi rendete conto ragazzi? 30.000 abbonamenti al 10 giugno? Ma qua si fa il sold out, si fa il sold out, prima ancora di cominciare il campionato, se continuiamo così. Perché? Perché la Roma ormai è vista come una squadra vincente, in crescita, una squadra ambiziosa, una società solida, della gente che dà il fritto a un campo, che si impegna, un allenatore espertissimo, che è bravissimo a preparare le partite, che contano 26 titoli, cinque finali europei, cinque vittorie ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Cinque finali europei, cinque vittorie, ma chi ce l'ha sti numeri? Quindi è lecito sognare, non è un'utopia. Cristiano Ronaldo ormai ha i suoi anni, la sua carriera l'ha fatta, un anno a Roma, anche due, trappando magari più di un anno di contratto, avanti senz'altro, unire il suo nome con quello, sposare il suo nome con quello della città più importante del mondo, più, ma raga, ma parliamo si chiama, ma chi c'era una città nel mondo come Roma? Ma su, ma le altre città importanti del mondo davanti a Roma arrossiscono, diciamo la verità, tra storia, arte e tutto quello che c'è. Quindi la notizia è questa, aspettatevi un bottone del mercato che non c'è segrete, che non c'è segrete. E allora adesso poi arrivo anche a capire forse perché poi alla fine si potrebbe anche cedere Zagnolo. Allora adesso lo riesco a capire, che è questa la logica, fare cassa, fare prendere tanti soldi, ma poi prendere un nomone che a livello internazionale ti fa fare un salto di qualità. Allora comincio a capire di più. Cristiano Ronaldo, un metro e 87 per 85 kg. Esordì nelle giovanili, nel lontano 92. Non mi sono segnato la data di nascita, l'anno di nascita. Nell'Andorignia, la sua avventura è iniziata nell'Andorignia. Nel 95 passa al National. Nel 97 allo Sport in Lisbona, siamo sempre a livello di squadre giovanili, era un Cristiano Ronaldo, se avete visto le fotografie. L'immagine è molto diverso da quello che vediamo oggi, mi ricordo, mi ricordo quelle fotografie con i denti tutti rovinati, mi ricordo con i brufoli, era molto diverso. Poi c'è stata una bella sistemata che stava facendo. Nel 2002, due gare con lo Sport in Lisbona B, ma subito, insomma, le qualità sono evidenti. E così, nel 2003, 25 gare nello Sport in Lisbona, prima squadra, con tre gol. E poi va allo United, nel 2003, fino al 2009, 196 gare, 84 gol. È appunto il periodo a cui facevo riferimento prima, quando parlavo di quel Manchester United-Roma, prima della partita. Io mi ricordo benissimo Cristiano Ronaldo, che faceva dei giochetti nel riscaldamento, i suoi giochetti che all'epoca facevano tutti questi doppi passi, velocissimi, eccetera. I tifosi della Roma gli fecero dei cori, che erano in trasferta, e lui rispose con molta simpatia, gli dicevano vieni da noi Cristiano, eccetera, eccetera. E lui gli faceva, eh, mo, io anche così gli faceva il simpatico. C'era del feeling già da allora. Nel 2009 passa al Real Madrid, ci resta fino al 2013 con dei numeri spaventosi, spaventosi, 202 gare, 311 gol, numeri da fantascienza. Forse, forse possibili solo nel campionato spagnolo, dove si segna tantissimo, forse in un altro campionato non sarebbe stato possibile. Nel 2018 il Marziano scende sulla terra, arriva a Torino, sulla, con la maglia della Juventus, sembrava un risultato impossibile da portare a casa, e invece, come vedete, Cristiano Ronaldo è venuto già in Italia, con la Juve diciamo che è andato bene, non ha portato però quello che si pensava che potesse portare, cioè la Champions. Rimane alla Juve dal 2018 al 2021, 98 partite, 81 gol, che comunque per il campionato italiano sono numeri eccezionali. Non so adesso se immagino che ci siano dentro anche i gol in Coppa Italia e nelle coppie, però comunque 98 partite, 81 gol per una squadra, per un giocatore che giocava una squadra italiana sono grandissimi numeri, ma non come quelli fatti registrare con la maglia del Real Madrid, sono numeri da extraterrestre, 202 partite, 311 gol. Poi va allo United, torna allo United, spesso le minestre riscaldate nella vita non riescono tanto bene, un anno tribolato più per il Manchester che per Cristiano Ronaldo, 30 gare, 18 gol, ma per lui sono numeri che non sono soddisfacenti. Poi ha fatto anche tutta la trafila nelle giovanili del Portogallo a partire dal 2003, la nazionale ha 188 partite, 117 gol, numeri spaventosi. Io l'ho visto l'altra sera in televisione in Portogallo, Svizzera, 4-0, ha segnato due gol, mi ha sbagliato uno davanti alla porta, poi stava anche calciando un rigore nel finale che poi il VAR ha cassato, ha tolto, mi è sembrato sempre come al solito in splendida condizione, è un grandissimo professionista, è uno che si allena tutto il giorno, la mattina e la sera, che ha molto chiaro davanti a sé qual è l'obiettivo, essere sempre il numero uno. Un giocatore semplicemente, se vogliamo fare un discorso a 360 gradi, un po' anche interessato, semplicemente perfetto per una squadra dal punto di vista dell'immagine, del marketing, di tutto quello che ti porta a livello di pubblicità, a livello di qualsiasi cosa, è anche uno, se vogliamo fare un discorso terra a terra, che ti porta un sacco di donne allo stadio, che ti attira un sacco di donne perché piace alle donne, alle ragazze, è veramente, potrebbe diventare un'icona e un ragazzo che veramente potrebbe essere un simbolo di questa squadra. Io ci credo, se non sarà Cristiano Ronaldo, io non vi sto dicendo la Roma apprende Cristiano Ronaldo, queste sono le voci che girano però, cioè si sta cercando la formula per arrivare a Cristiano Ronaldo, o se non sarà Cristiano Ronaldo sarà comunque un top player, come dice appunto Fabio Caressa, perché queste voci nell'ambiente stanno girando. So che Mourinho ha telefonato qualche mese fa a Cristiano Ronaldo per valutare un po' la situazione, ci sono state delle telefonate anche l'anno precedente, perché naturalmente Mourinho e Ronaldo sono portoghesi e hanno, adesso non mi ricordo se l'ha allenato nel Real Madrid proprio come pare, e quindi o nel Manchester, non mi ricordo bene o in quale delle due squadre, comunque si conoscono bene, ci sono state anche delle problematiche fra i due, mi ricordo, ma insomma sono due top nel loro campo. Si sta cercando di arrivare a questa soluzione qua. Sembra fantascienza, ma era fantascienza anche pensare a Mourinho un anno fa, ed era pure fantascienza, vi dirò di più, pensare a Di Bala fino a qualche mese fa, e invece la Roma ce l'ha provato con tutto l'impegno possibile, purtroppo Di Bala che sapete, ha parlato anche con Francesco Totti della possibilità di venire alla Roma, che era pronto addirittura a lasciargli la maglia numero 10, vi ricordate? Purtroppo sembra che sia stato guidato verso l'Inter, probabilmente perché l'Inter è una squadra che comunque giocherà la Champions League e comunque lotterà per lo scudetto, però non lo so, io credo che un giocatore del genere, essere un simbolo in una città come Roma, essere un giocatore di riferimento, lavorare con Mourinho poteva essere... cioè io penso che lavorare con Mourinho non sia la stessa cosa che lavorare con Simone Inzaghi, però forse sono di parte perché sono troppo coinvolto nel progetto Roma, quindi però io se fossi un giocatore a queste cose ci guarderei. Comunque loro ragionano invece forse spinti dai procuratori in un modo dove giochi, cosa puoi vincere, cosa puoi mettere in bacheca, ma io penso che a Roma ci arriveremo presto a ragionare così in termini di che cosa vogliamo mettere in bacheca. Perché i fatti dicono un anno un titolo, questi sono i fatti che ci sono visti quest'anno, cioè questo non è uno che fa le chiacchiere, questo è uno che fa i fatti ragazzi. Mourinho parla con i fatti. Non vedremo mai il gioco stellare, vedremo una squadra forte in campo che è ben messa in campo, ben preparata, brava nel preparare le partite che contano, che si impegna palla dopo palla, azione dopo azione, perché tutto quadri come deve quadrare. E con questo tipo di gioco si vince. Purtroppo questa è la storia. Non vedremo i colpi di tacco, vedremo una squadra forte che sarà sempre più forte e che deve arrivare, come ho detto prima, alla tappa finale che è la costruzione di uno stadio di proprietà, perché la Roma deve arrivare ad avere uno stadio di proprietà, è una cosa importantissima, deve avere una struttura aperta tutta la settimana con un centro commerciale che lavora, che produce, che crea posti di lavoro, che crea ricchezza, perché questo ci renderà molto più forti come società a livello internazionale dove la Roma deve stare, dove la Roma deve andare. Quindi io con grande ottimismo e fiducia vi do questa notizia di oggi nel mondo Roma. È partita dalla Fabio Caressa, ma girava da un po' di tempo questa cosa, credo anche di averla detta in video, guardare che la Roma se non prende Dybala prende comunque, io sapevo Cristiano Ronaldo, che non ha 28 anni certamente come Dybala, ma come personaggio mediatico è sicuramente meglio di Dybala. Cristiano Ronaldo è il murigno dei giocatori, cioè è il nome proprio quello che mette tutti d'accordo che nessuno parla, nessuno fiata, perché tra l'altro quando arrivò alla Juve qualcuno disse beh ma ormai avanti con gli anni, raga 98 partite 81 gol, scusate se sono pochi, certo era una Juve che era incompleta, ma quando è andato via Cristiano Ronaldo quest'anno si è visto anche quello che è successo, cioè la squadra si è impoverita tatticamente, tecnicamente, perché questo era uno che palla Ronaldo, ti costruiva l'azione d'attacco da solo, diciamo la verità, quindi speriamo bene, incrociamo le dita, nei prossimi giorni vi saprò dire di più e continuerò a seguire bene queste vicende di mercato, perché Fabio Caressa non è uno sprovveduto sotto questi punti di vista, non ha fatto il nome apertamente perché è uno che le cose le dice quando sono sicure, quindi ho molta fiducia, se non sarà Cristiano Ronaldo, comunque nelle parole di Fabio Caressa, la Roma farà un top player, farà un nome top, sarà un botto di mercato, ne parlerà tutto il mondo, questa è la realtà di oggi, ragazzi continuate a seguirmi, un abbraccio a tutti.